Buongiorno, sono Enrico Ceriani, sono medico chirurgo, ostetico ginecologo ed endocrinologo. Sono docente in università e ho appena acquisito un master in medicina della cura integrata. Svolgo la mia attività di ostetico ginecologo qui a Fisio 432 dopo aver lavorato circa 35-40 anni in ospedale e cerco di svolgere nel modo più ampio, completo possibile, cioè non valutando solo e soltanto l'apparato genitale della donna, quindi facendo una medicina molto ristretta, ma cercando di considerare la donna nel suo insieme, quindi un approccio alla medicina integrata, alla salute complessiva della persona, perché non abbiamo un organo ammalato, abbiamo una persona che è ammalata e quindi l'approccio deve essere di questo tipo, pur mantenendo il mio ruolo di specialista ostetico ginecologo. Altrettanto per il tema della gravidanza, quando una donna è gravida l'approccio deve essere non mirato solo e soltanto al tema della gravidanza, al benessere, alla salute del bimbo che sta crescendo al suo interno, ma alla salute complessiva della donna, perché una donna gravida che sta bene, fa crescere un bimbo sano e farà crescere un adulto con ottime possibilità di stare bene quando sarà grande. Vi ringrazio.